Allora, adesso prendiamo questo mazzo di bicycle e andiamo a selezionare il nostro De Luca. Anzi, andiamo a selezionare il nostro Movimento 5 Stelle. Ah, le carte sono tutte diverse. Possiamo scorrere così, vedete, sono tutte carte completamente diverse. Allora, adesso andiamo a tagliare così, metto giù dei mazzetti a caso, tu, Sade, mi dici stop quando vuoi. Stop. Stop? Sì. Qua? Sì. Ok, allora, adesso prendiamo un mazzo, dove tu hai detto stop, e andiamo a prendere la carta. La carta, signori e signori, è il Jack di Piccar, come direbbe il nostro Crodino. Noi lo prendiamo e lo mettiamo in mezzo a umazza, che si è fatto umazza da onda. Come per magia, adesso, erano tutte carte diverse, sono ancora carte diverse, quindi non è questo il gioco, ma il Jack di Piccar, che è stato messo in mezzo, è salito ed è arrivato fino a qua, sopra. Allora, qua mi sa che c'è un... però ci sono dato vicino, è comunque un Jack. Il gioco è finito, ho indovinato che era un Jack. Vai, Jack! Non vi vedo convinti e quindi qua abbiamo tutti i regali, no? Le stoffe, le berline per i nostri amici grillini. Adesso, passandole così magicamente sopra, noi dobbiamo trasformare in poche parole il Jack che era di quadri, giusto, in un Jack, quello là che è stato selezionato, che è di Piccar. E quindi passiamo così, e se togliamo, vediamo che c'è il Jack di Piccar. la carta che è stata scelta, ovviamente voi dite, si è ovvio, qui in mezzo è rimasto l'altro, no? È rimasto l'altro. Ah! Andiamo con ordine. Abbiamo detto che voi... che abbiamo cambiato il Jack di quadri, vedete? Tac, non c'è niente, e non c'è niente, niente, niente. e qua ci sono le calze per i nostri amici grillini, e non c'è nessun Jack di quadri, perché ormai è come Renzi, è andato via ed è rimasto a lui il Movimento 5 Stelle, Jack di Piccar! Ciao! Ciao! Ciao!